Sono Marco Marino, nato a Bitonto nel 1978 e faccio parte di un progetto per equazione il quale si occupa attraverso degli usili tecnologici per farci imparare a inserire dei libri o anche a leggere. C'è un programma specifico, iTechBook, attraverso il quale serve per trasformare in digitale i libri che o vanno ai lettori, cioè serve per far leggere i lettori direttamente, oppure alle varie biblioteche. Per me è molto importante imparare questo programma perché a me piace tanto il computer e anche, dico anche, molto molto le tecnologie all'avanguardia. Sì, è molto importante anche perché imparo anch'io a leggere attraverso i computer il libro che io stesso mi trasformo in digitale attraverso questo software. Questo qui si chiama Tecniche di basse per il sociale e parla appunto del sociale. Poi ho letto un libro sulle biblioteconomie che parla appunto di come è strutturata una biblioteca. Ho anche visitato una biblioteca nel quale siamo stati, la biblioteca di Bitonto, molto famosa. Quindi io sarei contento anche a fare un piccolo stage, un piccolo tirocino, come posso dire, in questa biblioteca per approfondire di più le mie conoscenze che ho sulla tecnologia dei computer. Grazie a tutti.